1911-2011, un secolo, un traguardo prestigioso, un avvenimento che Salvatore di Benedetto non ha potuto festeggiare solo perché cinque anni fa è morto. Non è morta invece la sua storia, le sue battaglie, il suo impegno profuso come partigiano, come sindaco, come parlamentare, come insegnante. E così, questa sera, la sezione agrigentina dell'ANPI, con il patrocino del Comune di Agrigento e del Centro Culturale Pierpaolo Pasolini, ha voluto accendere i riflettori su questa significativa figura a cento anni dalla nascita. Al Teatro Pirandello, per solenizzare l'avvenimento, è arrivato Massimo D'Alema, personaggio di primo piano del Partito Democratico. Oltre al ricordo, inevitabili, tenendo come punto di riferimento Salvatore di Benedetto alcuni collegamenti tra gli interpreti della politica di oggi e quella di ieri. E allora nasce spontanea una domanda. Oggi si assiste più alla difesa della poltrona che alla difesa dell'ideologia, dei valori? Insomma, io adesso non disprezzerei in blocco, diciamo, la politica. Ognuno si prende le sue responsabilità. Io credo che c'è ancora una politica che crede nei valori, altrimenti sarebbe un disastro, diciamo. Certo, quella generazione è una generazione che per i propri valori ha pagato un prezzo molto alto. Allora era più difficile, diciamo. E in tema di politica nazionale, i riflettori si sono accesi sul neonato governo tecnico guidato dal professore Mondi. Oggi abbiamo un governo affidabile, abbiamo un presidente del Consiglio che torna ad essere considerato un interlocutore di prestigio. Non era più così. Noi ci lamentavamo perché facevano i vertici tra Sarkozy e la Merkel. Il problema è che avevamo un presidente che non era in grado di essere invitato, diciamo. Quindi adesso fortunatamente torniamo, diciamo, a esercitare il ruolo che deve essere proprio di un grande paese come l'Italia. Bisogna aiutare questo governo ad affrontare l'emergenza. Poi D'Alema si proietta all'immediato futuro. Parla della necessità delle riforme che servono al paese per uscire dalla grave crisi. Parla anche di tagli alla politica. Fare le riforme. La politica deve fare le riforme della politica, cioè ridurre il numero dei parlamentari, una politica più sobria. E poi si tornerà al voto. E infine D'Alema ha una sua precisa convinzione su chi governerà l'Italia quando le redini torneranno nelle mani della politica. Il futuro è un governo di centro-sinistra. Il presente è un governo per salvare il paese.